Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Ultimo e la sua fidanzata Jacqueline presto diventeranno genitori, ma il web è in subbuglio per via di Heather Parisi, madre della ragazza, che non vede la figlia da ben 10 anni. Pare che Heather fosse a conoscenza della gravidanza di Jacqueline, ma non abbia fatto alcun commento in proposito. Secondo l'esperto di gossip Alessandro Rosica, Heather sapeva che la figlia era incinta e non le importava, non ha voluto vedere Jacqueline e non vuole neanche vedere il nipote. Jacqueline è nata nel 2000 dall'amore tra Heather e l'ex marito Giovanni Di Giacomo, ma i rapporti tra madre e figlia sono sempre stati tesi. In passato Heather aveva dichiarato di vedere regolarmente i suoi figli, compresi quelli avuti dal marito in una precedente relazione, ma Jacqueline ha smentito queste affermazioni, rivelando di non vedere la madre da 10 anni e di sentirsi mancata di rispetto. La notizia della gravidanza ha portato l'attenzione anche su Heather Parisi, che ha limitato i commenti sui social media dopo l'annuncio ufficiale. I fan della coppia si chiedono se la showgirl sarà felice di diventare nonna, ma al momento non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte di Heather. La situazione continua a tenere banco sul web, che molche si chiedono se ci sarà un chiarimento pubblico.